Salve amici miei, oggi andiamo a preparare un yogurt naturale con le albicocche. Siccome adesso è la stagione delle albicocche, io ne compro abbastanza. Quando mi rimanere qualcosa le metto in congelatore. Adesso l'ho messo fuori, l'ho messo in una padella con fuoco basso, lo vado a cucinare. Ma proprio io sto vicino, ogni tanto gli do una mischiata. Non voglio aggiungere né acqua, né zuccheri, niente. Andiamo a cucinarlo. Come è? E quindi lo copriamo e lo lasciamo a fuoco basso. Ogni tanto le diamo una mischiata, perché dobbiamo togliere la polpetta da quella pellicola dell'albicocca, perché è un po' brusca e di solito è sempre un po' brusca. Andiamo a toglierla del ciutto, vedete com'è che io li metto a parte, e raccoliamo solo la polpetta del nostro albicocche. E adesso è pronta, togliamola dal fuoco e vado a metterla nelle vasette. Le divido, la quantità che abbiamo tutte nelle nostre vasette. Vado a prendere un litro di latte con un yogurt intero di 150 ml, poi lo vado a versare nel latte, lo mischio bene, finché si scioglie bene il yogurt dentro il latte. E' importante mischiarlo bene dentro il latte, perché così si scioglie per bene. Andiamo a versarlo in un altro contenitore da facilitare la versamento. Vado a riempire tutti gli vasetti che ho. Qua mi è rimasto un po', vado a metterlo dentro un vasetto, un altro vasetto, perché mi si è rotto uno. Eccolo qua. Questi qua dell'IKEA, è molto carino. Se voi non avete le yogurtiera, le mettete dentro, tutti dentro questi vasetti qua, e le mettete nel forno, magari le preparate di notte. E poi, il giorno dopo, avete yogurt ben compatto, molto buono, e sono poi molto carini, anche per i nostri bambini. Gli diamo un vasetto un po' diverso, un po' strano, molto carino, veramente. Ecco, è passato il tempo, io l'ho lasciato per due ore e mezzo, al massimo tre ore, e abbiamo già il nostro yogurt ben compatto, molto buono, veramente senza zuccheri, senza miele, senza niente. E poi qualcuno, se gli piace più dolci, magari mette un cucchiaino di miele. Credetemi che, che è dolci così, perché il latte è senza lattosio, e quindi c'è già, quando gli fanno quel cambiamento, è già zuccherato da sé, e veramente, e con l'albicocca, è già buono, senza zucchero, senza miele, senza niente. Io lo gusto così, veramente, guardate, anche questo della botellietta, veramente molto, molto buono, e dolci da sé, senza mettere nessun dolcificante. Adesso le metto in frigo, e che si raffredda. Prima li lascio fuori, per un po', che sarà freddo, perché con la macchinetta vieni fuori caldo, e poi dopo le metto in frigo. Io le ho preparato di sera, e le lascio fino al giorno dopo. Eccolo qua, adesso, i miei figli, che li gusta, li assaggio, veramente, è molto, molto buono. Vedete come è compatto, è più buono di quello che si compra fuori, e voi, magari, man mano, lasciate sempre un yogurt indietro, e li preparate con il latte comprato da voi, è veramente più buono così, almeno faccio io così a casa. E se volete mettere anche cereale, miele, quello che volete, è già buono e zuccherato da solo così. Vedete con me che miei figli non gli basta neanche uno, ne ha preso un altro, e ne ho mangiato con il cereale. E fin qui ragazzi, io ho finito il video, spero che vi piacerebbe di oggi, e non mi rimanerebbe che salutarvi, e al prossimo video con un'altra idea, un altro suggerimento, e un grande abbraccio a tutti voi. Ciao ragazzi, vi lascio con le foto.